prima giovanni questa mattina prima giovanni prima lettera di giovanni capitolo 2 leggeremo i primi due versetti i primi due versetti di questo capitolo giovanni l'apostolo che scrive figlioli miei vi scrivo queste cose perché non pecchiate e se qualcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il padre gesù cristo il signore giusto gesù cristo il giusto egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati e non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo questa mattina ci soffermiamo solamente questi due versetti vedremo molte cose dobbiamo considerare alcuni aspetti importanti che riguardano come abbiamo letto il sacrificio propiziatore di cristo per i nostri peccati cosa significa per la nostra vita abbiamo visto le scorse due domeniche i primi versetti primi quattro versetti giovanni presentare quella che la certezza e la realtà dell'incarnazione di gesù cristo alla luce dei falsi insegnanti falsi profeti che stavano distorcendo l'evangelo negando che gesù fosse il cristo che gesù è venuto nella carne giovanni scusate iniziato presentando non se stesso ma ha presentato questo aspetto dottrinale fondamentale che riguarda l'incarnazione di cristo gesù è la vita eterna che è stata manifestata che giovanni ha visto udito e toccato gesù cristo ne vorrei ricordarvi lo scopo di questa lettera capitolo 5 versetto 13 lo scopo è questo giovanni scrive vi ho scritto perché vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figlio di dio giovanni vuole ricordare vuole incoraggiare i credenti che leggeranno questa lettera a sapere che loro hanno la vita eterna perché perché hanno creduto in cristo ovvero in colui che si è manifestato incarnato hanno creduto nel vero vangelo in questa lettera giovanni vuole chiarire qual è il sano vero vangelo e vuole chiarire chi è il vero credente che conosce questo vangelo che è trasformato da questo vangelo e questo perché c'erano falsi insegnanti che stavano stravolgendo quello che era il vangelo annunciato dagli apostoli giovanni da versetto 5 versetto 10 del capitolo 1 presenta due verità essenziali cruciali che riguardano il vangelo e che riguardano di conseguenza il credente in questi versetti abbiamo visto non possiamo andare nei dettagli ma abbiamo visto che giovanni vuole presentare chi è in realtà in comunione con dio quando qualcuno afferma di avere comunione con dio questo è quello che affermavano i falsi insegnanti giovanni infatti dice se diciamo che abbiamo comunione con lui se diciamo di essere senza peccato se diciamo di non aver peccato vedete affermazioni giovanni vuole spiegarci chi è colui che ha veramente comunione con dio giovanni ha presentato quattro cose importanti che caratterizzano i credenti abbiamo visto la condotta primo aspetto la condotta del credente in linea con la santità di dio la condotta prova che una persona conosce dio abbiamo visto che il credente è colui che beneficia del perdono e della purificazione dei peccati solo credente beneficia di questo perdono terzo aspetto il credente che ha comunione con dio di conseguenza ha comunione con i fratelli comunione che non vuol dire semplicemente condividere un messaggio ma vivere consacrato a cristo con altri fratelli con lo stesso obiettivo assomigliare a cristo e poi quarto ultimo aspetto questa continua confessione dei peccati dei veri credenti coloro che conoscono dio che hanno in comunione con dio che camminano nella luce confessano i loro peccati sono veramente pentiti abbiamo visto odiano i peccati che confessano quattro aspetti importanti che hanno uno scopo di mostrarci chi è colui che ha comunione con dio giovanni presenta prima cosa che dio è luce il vangelo inizia con dio non inizia con l'uomo con i bisogni dell'uomo inizia con chi è dio dio luce e la seconda verità importante l'uomo è nelle tenebre e quindi in questi versetti giovanni vuole mostrare chi è che ha comunione con dio chi sono coloro che camminano nella luce che hanno comunione con dio in questi due versetti invece nel capitolo 2 questa mattina vedremo in che modo è possibile avere quella comunione quindi non solo chi è che ha comunione con dio come vive colui che ha comunione con dio dimostra ciò nella sua vita e questa mattina vedremo in che modo è possibile avere questa comunione mentre invece poi in seguito vedremo le prossime domeniche quali sono i frutti visibili di questa comunione con dio e questa mattina vediamo in che modo in che modo è possibile avere questa comunione con dio qui giovanni inizia dicendo figlioli miei vi scrivo queste cose quando dice queste cose si riferisce a quello che appena detto dal versetto 5 versetto 10 del capitolo 1 di cui giovanni sta parlando di quello che ha appena affermato nei versetti precedenti e ci insegnerà in che modo è possibile avere comunione con dio non solo ci mostrerà in che modo è possibile essere salvati sì ma in che modo è possibile che dei credenti nonostante pecchino possono continuare ad avere comunione con dio come è possibile che un credente pecca non perché desidera ciò anzi confesse peccati ma come è possibile essere in comunione nonostante il peccato ancora noi perché in che modo questo è quello che ci insegneranno questi due versetti iniziamo col versetto 1 col versetto 1 dove giovanni presenta gesù cristo come il nostro avvocato gesù cristo è l'avvocato dei credenti è il difensore dei credenti giovanni inizia dicendo figlioli miei figlioli miei questa espressione meravigliosa che utilizza anche in altri versetti di questo di questa epistola capitolo 2 versetto 12 per esempio versetto 28 capitolo 3 capitolo 4 e capitolo 5 questa terminologia figlioli e sapete chi è che utilizza questa terminologia gesù in giovanni 13 33 è gesù che parlando agli apostoli dice figlioli e utilizza questo termine non figli ma figlioli questo diminutivo per quale motivo non perché erano immaturi ma per l'affetto che ha nei loro confronti giovanni l'ultimo apostolo sopravvissuto in vita in quel contesto era l'ultimo rimasto in vita che scrive ai credenti che vuole incoraggiare i credenti alla luce dei falsi insegnanti dice figlioli miei con affetto vi scrivo queste cose perché non pecchiate prima giovanni capitolo 1 ha confutato ha contrastato quello che affermavano i falsi insegnamenti i falsi insegnanti falsi profeti mentre qui giovanni parla direttamente se notate ai suoi figli qui parla direttamente non contrasta più i falsi insegnanti ma parla direttamente ai destinatari di questa lettera ai credenti figlioli miei vi scrivo queste cose ovvero quello che ha scritto in precedenza perché non peccate perché non pecchiate qui giovanni parla in modo diretto esplicito ai lettori ai destinatari di questa lettera ai credenti parla in modo esplicito e dice queste parole vi scrivo queste cose perché non pecchiate qui giovanni si rivolge specificamente credenti e spiega perché ha affermato quello che ha detto nei versetti precedenti per quale ragione giovanni ha parlato per esempio di purificazione da ogni peccato mediante il sangue di cristo perché ha parlato della fedeltà di dio della sua giustizia mediante la quale mediante dio mediante il suo sangue mediante i suoi attributi noi oggi abbiamo il perdono dei peccati la purificazione perché ha affermato ciò perché ha parlato della confessione dei peccati per quale ragione che abbiamo capito per confutare contrastare i falsi insegnanti ma c'è un altro motivo qui giovanni vuole avvertire non solamente i lettori riguardo ai falsi insegnanti ma anche riguardo al peccato nella loro vita qui vuole avvertirli riguardo alla gravità dei peccati nella loro vita individuale personale figlioli miei vi scrivo queste cose perché non pecchiate giovanni qui scrive vi scrivo vi dico ciò vi parlo di queste cose perché non pecchiate in altre parole quando giovanni ha parlato del perdono dei peccati della confessione dei peccati della purificazione quello che ha detto non doveva essere un'occasione una scusa per peccare quando ha affermato che siamo peccatori ma purificati perdonati e che confessiamo i peccati questo non significa che abbiamo la possibilità quindi di vivere nel peccato tanto gesù ci ha perdonati questo non significa che dobbiamo considerare in modo superficiale o leggero il peccato perché dio è luce giovanni iniziò con questo messaggio con questa verità dio è luce non ci sono tenebre in lui e quindi i credenti non possono considerare il peccato in modo superficiale sapete peccare significa letteralmente dal testo originale verbo dal termine greco significa questo fallire il bersaglio peccare il verbo significa fallire il bersaglio errare fallire il bersaglio quale bersaglio lo standard di dio la santità di dio peccare vuol dire fallire riguarda quello che la santità di dio riguarda quello che la verità assoluta di dio se dio non è lo standard ecco che lì ognuno di noi ha una concezione di peccato diverso ognuno pensa che qualcosa è peccato l'altro pensa no non è proprio peccato perché ognuno di noi ha un suo proprio standard un suo metro di misura no il vangelo inizia come abbiamo visto presentando chi è dio affinché possiamo tutti confrontarci con la santità di dio con la luce di dio ovvero con la verità di dio ogni giovanni qui scrive vi scrivo queste cose vi parlo del perdono dei peccati della confessione della purificazione continua dei peccati ma attenzione vi scrivo questo affinché non pecchiate quello che vi ho detto non deve portarvi a peccare a perseverare nel peccato ad adagiarsi tanto gesù ci ha perdonati no colui che è perdonato che vive nella luce al contrario non desidera peccare non ha alcuna volontà di peccare abbiamo visto che quello che confessa i peccati non è una semplice ammissione ma è una volontà di rigettarli di odiare quei peccati se non odiamo i peccati non stiamo in realtà confessando i peccati non c'è in realtà pentimento giovanni vuole esortare i credenti ad avere questo desiderio contro il peccato di perseverare nella luce di non voler peccare confessione continua sì ma un continuo cammino nella luce non devono abusare della grazia di dio vediamo questo anche i romani 6 i romani 6 proprio velocemente quando paolo dice che diremo dunque rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi no di certo noi che siamo morti al peccato come vivremo ancora in esso che faremo dunque versetto 15 peccheremo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia no di certo quello che giovanni ha affermato riguarda il perdono dei peccati non deve condurre credente a vivere perseverare nel peccato ad avere una visione superficiale del peccato a giustificare i peccati no assolutamente no vi scrivo giovanni dice queste cose perché non pecchiati giovanni esorta i credenti a non peccare ora potremmo dire ma aspetta ma ma noi pecchiamo infatti giovanni subito dopo dice e se qualcuno ha peccato giovanni prosegue e sa benissimo che i credenti peccheranno che lui stesso peccherà giovanni qui non sta esortando alla perfezione sa benissimo appena parlato di confessione dei peccati appena parlato di purificazione vuole esortarli ad un cammino nella luce di santificazione a non desiderare di peccare a non essere superficiale nella loro vita ma giovanni sa benissimo che i credenti peccheranno che lui stesso peccherà che lui stesso peccherà giovanni sta esortando i credenti a non tollerare il peccato a non tollerare il peccato perché dio è luce e lui non ci sono tenebre sì siamo perdonati purificati ma non possiamo tollerare il peccato quindi l'esortazione a non peccare a non peccato giovanni non ha affermato che gesù ci ha purificato da ogni iniquità e quindi possiamo peccare volontariamente tanto siamo purificati non è questo il messaggio di giovanni quello che intendeva era noi siamo perdonati purificati ma ora desideriamo non vivere in quel peccato ma vivere e perseverare nella luce vi ho scritto queste cose perché non pecchiate e se qualcuno ha peccato giovanni sa che peccheremo ecco che dice noi abbiamo un avvocato presso il padre gesù cristo il giusto quando i credenti peccono e peccheranno quando noi credenti pecchiamo sappiamo attraverso questo versetto che c'è una soluzione e la soluzione è divina non è umana non nella confessione dei peccati la soluzione al nostro peccato ma è gesù cristo il giusto gesù il nostro avvocato è la soluzione giovanni dice noi include se stesso anche lui peccatore abbiamo dice questo verbo avere abbiamo continuamente non abbiamo avuto o avremo abbiamo continuamente un'azione continua che cosa un avvocato presso il padre un avvocato presso il padre gesù cristo il giusto gesù è un avvocato il termine greco tradotto avvocato è lo stesso termine utilizzato nel descrivere lo spirito santo in giovanni 14 ci ricordiamo abbiamo studiato questo giovanni 14 16 per esempio io pregherò il padre degli vi darà un altro consolatore al versetto 26 al capitolo anche 15 26 stessa cosa consolatore e così al capitolo 16 versetto 7 tradotto consolatore abbiamo visto allora che il termine si riferisce a colui che viene in aiuto a colui chiamato vicino quindi non semplicemente consolatore ma aiuto a colui che aiuta potrebbe essere tradotto intercessore mediatore avvocato lo spirito santo viene in aiuto e la nostra guida qui nella nostra vita quotidiana sulla terra lo spirito santo quindi ci conduce ci guida gesù invece questo intercessore dice alla presenza del padre presso il padre questa intimità con il padre lui è lì è la presenza del padre ed è il nostro avvocato lui intercede il nostro difensore lo spirito santo è che ci guida che ci aiuta che ci sostiene per il nostro cammino e gesù che invece è la presenza del padre e intercede per noi il nostro avvocato intercede per i credenti ecco perché leggiamo in romani 8 1 che non c'è nessuna condanna per coloro che sono in cristo nonostante continuino a peccare nonostante continuino a peccare a leggeremo alcuni versetti romani 8 33 e 34 in ebrei 7 25 brani che presentano gesù come colui che intercede per i credenti questa sua intercessione efficace produce un risultato gesù che il giusto gesù che è perfetto e lui che intercede per noi e fa sì che noi possiamo continuare ad avere comunione con dio nonostante pecchiamo nonostante pecchiamo gesù l'attenzione non è alla destra del padre oppresso al padre che sta supplicando il padre lo sta convincendo no la volontà di gesù la stessa del padre la giustizia di gesù la stessa del padre gesù è lì alla presenza del padre intercede lui è la garanzia della nostra comunione con il padre lui ha guadagnato quella comunione la salvezza e mantiene quella comunione con il padre la nostra comunione con il padre proprio perché intercede per noi gesù la nostra difesa è il nostro avvocato gesù è il giusto la sua giustizia che diventa la nostra giustizia per grazia il credente quindi che pecca non perseverano il peccato ma pecca i suoi atti peccaminosi non distruggono e non distruggeranno mai la sua comunione con il padre con dio il credente quando pecca non è lasciato a se stesso nel rimediare al peccato commesso non ha un avvocato un intercessore gesù cristo il giusto che intercede per lui ed ecco perché il credente nonostante pecchi ha questa continua comunione con dio nonostante il peccato il credente colui che confessa i peccati che odia il peccato che non vuole peccare ma se pecca giovani dice c'è una soluzione questa soluzione è cristo non è l'uomo non è la fede dell'uomo del credente non è il pentimento quelli sono i frutti ma è gesù cristo il nostro avvocato potrebbe però sorgere una domanda sulla base di cosa gesù intercede per noi lui è il nostro avvocato lui garantisce questa continua comunione ma sulla base di cosa garantisce questa comunione non è grazie la nostra ubbidienza fiducia ma è grazie versetto 2 al sacrificio propiziatore di cristo gesù è la destra del padre e garantisce la nostra comunione non garantisce attenzione alla comunione dei falsi insegnanti i falsi insegnanti non sono in comunione con dio perché gesù non è il loro avvocato gesù invece il nostro avvocato l'avvocato dei credenti sulla base di cose del suo sacrificio propiziatorio e passiamo adesso a questa seconda parte al versetto 2 gesù nostro intercessore il nostro avvocato sulla base del suo sacrificio propiziatorio egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati fermiamoci qui letteralmente qui giovanni inizia con la congiunzione è continuo quello che ha appena detto gesù cristo il giusto il nostro avvocato è egli è il sacrificio propiziatorio e egli stesso c'è una grande enfasi nel testo originale egli stesso gesù stesso è il sacrificio propiziatorio non è stato sarà è continuamente un sacrificio propiziatorio per i nostri peccati qui gesù giovanni non sta dicendo che gesù ha offerto un sacrificio sta dicendo che gesù è il sacrificio gesù non è solamente come i sacerdoti che offrivano i sacrifici lui ha offerto sì il sacrificio volontariamente ha dato la sua vita ma lui stesso è il sacrificio propiziatorio lui è il sacrificio che cosa significa che cosa significa che gesù è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati che cosa significa dobbiamo comprendere qua c'è una verità essenziale importante e potrebbe essere mal compresa e portare anche all'eresia cosa vuol dire che gesù è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati cosa vuol dire propiziazione cosa significa questo termine un termine conosciuto anche tra i pagani utilizzato anche per il loro dei pagani ma capiamo il significato di questo termine attraverso le sacre scritture attraverso la parola di dio alcuni versetti che vorrei leggere dopo velocemente per capire cosa significa che gesù è il sacrificio propiziatorio ci sono termini simili utilizzati nel nuovo testamento che provengono dalla stessa radice per esempio in luca 18 in luca 18 3 parabola che gesù raccontò del fariseo del pubblicano luca 18 13 quando il pubblicano pregò si batteva il petto e disse questo oddio abbi pietà di me peccatore si propizio vuol dire si placato letteralmente abbi pietà è un termine molto simile che proviene dalla stessa radice del termine propiziazione abbi pietà di me peccatore così parla della propiziazione si placato si propiziato potremmo dire i romani 3 romani 3 25 anche qui romani 3 versetto 25 l'apostolo palo dice questo dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue sacrificio propiziatorio anche qui in termine simile che proviene dalla stessa radice del termine che abbiamo in prima giovanni 2 versetto 2 oppure ebrei 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 2 17 perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa per essere misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano a dio per compiere l'espiazione dei peccati del popolo il termine espiazione in realtà è propiziazione per fare la propiziazione per compiere la propiziazione per i peccati del popolo propiziazione stesso termine termine simile se sarà dice ebrei 9 anche ebrei 9 in ebrei 9 quando l'autore parla del sacrificio di cristo e racconta parlando del tabernacolo quello che accadeva l'antico testamento questo tabernacolo luogo santissimo conteneva versetto 4 un incensiere d'oro l'arca del patto tutta ricoperta d'oro nella quale c'era un vaso d'oro contenente la manna la verga di aronne che era fiorita e le tavole della legge del patto tavola della legge e sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano le ali il propiziatorio quindi coprivano con le ali questi cherubini il propiziatorio coprivano il propiziatorio con le ali ora per capire cosa significa dobbiamo andare nell'antico testamento andiamo per un attimo in esodo in esodo capitolo 25 per capire cosa significa propiziazione esodo 25 esodo capitolo 25 versetto 15 parlando dell'arca del patto le stange rimarranno nei anelli dell'arca e non ne saranno sfilate poi metterai nell'arca la testimonianza che ti darò farai anche un propiziatorio d'oro pulo la su lunghezza tra di due cubiti e mezzo la sulla larghezza di un cubito e mezzo farai due cherubini d'oro li farai lavorati al martello alle due estremità del propiziatorio fa un cherubino per una delle estremità e un cherubino per l'altra farete in modo che questi cherubini escano dal propiziatorio alle due estremità i cherubini avranno le ali spiegate in alto in modo da coprire il propiziatorio con le loro ali avranno la faccia rivolta l'uno verso l'altro le facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiziatorio metterai il propiziatorio in alto sopra l'arca e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò lì io mi incontrerò con te dal propiziatorio fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di israele questo propiziatorio era il coperchio che copriva questa arca all'interno c'era la legge le tavole della legge dio era sopra propizio al propiziatorio fra i due cherubini disse io mi incontrerò con te dal propiziatorio sopra fra i due cherubini mandiamo anche il levitico per capire ancora di più levitico 16 levitico 16 levitico capito 16 versetto 11 16 versetto 11 aronne offrirà dunque il suo toro del sacrificio spiatorio farà l'espiazione per sé per la sua casa sgozzerà il toro del sacrificio per il peccato per sé poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi tolti dall'altare davanti al signore e due manciate di incenso aromatico polverizzato e porterà ogni cosa al di là di là dalla cortina metterà l'incenso sul fuoco davanti al signore affinché la nuvola dell'incenso copra il propiziatorio che sulla testimonianza non morirà poi prenderà del sangue del toro aspergerà col dito il propiziatorio verso l'oriente e farà sette aspersione del sangue col dito davanti al propiziatorio poi sgozzerà il capo del sacrificio per il peccato che è per il popolo e ne porterà il sangue di là dalla cortina farà con questo sangue quello che ha fatto con il sangue del toro ne farà l'aspersione sul propiziatorio e davanti al propiziatorio così farà l'espiazione per il santuario e a causa dell'impurità dei figli di israele delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati lo stesso farà per l'attene di convegno che tra di loro e mezzo alla loro impurità qui vediamo in questi versetti dell'antico testamento il propiziatorio era questo coperchio che copriva l'arca all'interno dell'arca c'era la legge c'era sopra quest'arca tra i due crobbini quindi sopra il propiziatorio c'era l'arca c'era dio che appariva e sotto il propiziatorio c'erano le tavole della legge i sacerdoti mettevano il sangue sul propiziatorio in questo propiziatorio questo coperchio era pieno di sangue questo sangue e propiziatorio quindi che si trovava tra la legge trasgredita e dio il sangue sul propiziatorio si trovava tra la legge trasgredita dagli uomini e dio l'intento di questo sacrificio di questo sangue di questo propiziatorio era quale questo coperchio ripieno di sangue aveva uno scopo il sangue su questo coperchio placare l'ira di dio coprendo il sangue coprendo con il sangue scusate la trasgressione della legge di dio lo scopo di questo sangue su questo coperchio il propiziatorio aveva lo scopo di placare l'ira di dio coprendo con il sangue la trasgressione della legge di dio si trovava tra la legge e dio questo sangue ed era dove su questo propiziatorio ecco perché in quella parabola del fariseo del pubblicano pubblicano disse si placato verso di me si placata la tua ira si misericordioso grazie al sangue di cristo che si interpone tra dio e la legge trasgredita gesù è colui che ha pagato la pena che spettava a noi e guadagna la misericordia di dio gesù con il suo sangue placa l'ira di dio nella nostra fede che placa l'ira di dio e il sacrificio propiziatorio lui gesù e questo coperchio con il sangue che copre i nostri peccati e placa l'ira di dio nei nostri confronto questo sacrificio aveva una costante efficacia aveva lo scopo di coprire peccati e dovevano sacrificare continuamente specificamente l'evito quel sacrificio era una volta all'anno per il popolo fatto la somma sacerdote ma poi c'erano costanti sacrifici ora qui abbiamo gesù un solo sacrificio che ha questa costante efficacia copre i nostri peccati copre la trasgressione della sua legge dalla legge di dio e placa l'ira di dio dio non vede più i nostri peccati ma vede che cosa il sangue su quel coperchio gesù è questo coperchio con il sangue lui è il sacrificio propiziatorio lui ha propiziato dio affinché dio sia misericordioso in che modo quindi è possibile avere comunione con dio nonostante continuiamo a peccare gesù e questo sacrificio propiziatorio che garantisce questa comunione perché il suo sangue si trova tra dio e i nostri peccati questa intercessione continua gesù come avvocato sulla base di questo sacrificio intercede perché c'è un sacrificio questo sangue che copre peccati costantemente un solo sacrificio permanente che copre la nostra trasgressione e placa l'ira santa di dio e placa l'ira santa di dio questo sacrificio in questo contesto ribadisco giovanni vuole mostrarci in che modo è possibile mantenere questa comunione nonostante il peccato se pecchiamo come possiamo mantenere questa comunione non è grazie alle nostre opere la nostra fede ma è grazie a questo sacrificio di cristo una volta per sempre lui questo coperchio che copre la trasgressione della legge questo sangue sparso affinché dio non guardi i nostri peccati ma guardi il sangue di cristo questo sacrificio perfetto di cristo lui che è il giusto ecco perché intercede ecco perché la sua intercessione ha questo valore e questa efficacia a motivo del sacrificio propiziatorio giovanni qui aggiunge un'altra verità importante e spesso mal compresa dice egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo non soltanto per i nostri peccati ma anche per i peccati in altre parole di tutto il mondo cosa significa di tutto il mondo cosa vuole dire qui giovanni è gesù cristo il sacrificio propiziatorio per ogni singolo individuo esistito sulla faccia della terra è gesù il sacrificio propiziatorio anche per i peccati di tutti coloro che saranno giudicati per l'eternità nell'inferno nello stagno di fuoco dobbiamo ritornare un po indietro per rispondere a questa domanda che cos'è il sacrificio propiziatorio abbiamo visto che il sangue di cristo ha lo scopo di coprire i peccati nostri per placare l'ira di dio il risultato qual è che gesù è il nostro intercessore la domanda è è gesù l'intercessore l'avvocato dei non credenti assolutamente no il sacrificio propiziatorio ha questa efficacia nel far sì che il credente continui ad avere questa comunione con dio ma i non credenti o i falsi profeti che giovanni sta confutando soprattutto nei versetti precedenti non hanno comunione con dio gesù non è il sacrificio propiziatorio e non è l'avvocato dei non credenti in questo contesto giovanni vuole mostrarci in che modo i credenti hanno comunione con dio ed è grazie al sacrificio propiziatorio gesù è il sacrificio propiziatorio solo per i credenti ecco perché i credenti hanno comunione con dio nonostante peccano infatti come risultato di questo sacrificio sono salvati sono redenti in cristo e fisini 1 7 e hanno questa continua comunione nonostante il peccato però qui giovanni parla di mondo giovanni qui parla di mondo quindi che cosa significa perché giovanni parla di tutto il mondo sappiamo che non tutti saranno salvati sappiamo che i non credenti sono sotto l'ira di dio quindi come è possibile che il sacrificio di cristo propiziatorio e anche per i non credenti se loro sono sotto l'ira di dio andiamo in prima giovanni 4 prima giovanni 4 10 dove qui giovanni descrive la amore di dio e nel descrivere la morte dio parla del sacrificio propiziatorio e dice per i nostri peccati qui non aggiunge per i peccati di tutto il mondo ma dice per i nostri peccati il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati guardate pochi versetti dopo versetto 14 versetto 14 dove giovanni afferma cosa anche qui che potrebbe apparire strano che dice questo e noi abbiamo veduto e testimoniamo che il padre ha mandato il figlio per essere il salvatore del mondo ora quando dice salvatore del mondo sta dicendo che gesù è il salvatore dei non credenti non è possibile gesù non è il salvatore dei non credenti gesù è il salvatore di chi dei credenti che ha salvato chi sono qui coloro che sono del mondo perché dice salvatore del mondo cosa si riferisce versetto 15 chi riconosce pubblicamente che gesù è il figlio di dio dio rimane in lui e degli in dio versetto 16 noi abbiamo conosciuto l'amore che dio ha per noi ed abbiamo creduto dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in dio e dio rimane in lui coloro che riconoscono che gesù è il figlio di dio e che amano dio sono coloro versetto 7 che dio ha rigenerato chi ama è nato da dio è rigenerato da dio il mondo di cui parla qui giovanni fa riferimento ai non credenti che dio nella sua grazia ha rigenerato e che ha redento grazie al sacrificio propiziatorio gesù non è il salvatore dei non credenti ma dei credenti che dal mondo sono stati tratti fuori rigenerati redenti mediante il sacrificio propiziato di cristo qui capiamo che non si rifiisce ai non credenti ma c'è un altro brano andiamo nel vangelo di giovanni giovanni vangelo di giovanni capitolo 1 per capire meglio cosa significa il mondo quando parla di mondo l'apostolo giovanni di chi sta parlando giovanni 1 29 quando descrivendo quello che giovanni battista disse giovanni vive gesù che veniva verso di lui e disse ecco l'agnello di dio che toglie il peccato del mondo ora quando dice toglie il peccato del mondo cosa si riferisce che toglie i peccati di ogni individuo che ha esistito sulla faccia della terra e quindi sono tutti salvati no qui non parla di questo agnello sacrificio propiziatore per togliere i peccati di ogni individuo perché tutti sarebbero salvati qui parla di chi andiamo indietro versetto 10 11 quando parla che il mondo non l'ha conosciuto quelli di casa sua l'hanno ricettato ma tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di dio a quelli ciò che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né dalla volontà d'uomo ma sono nati da dio coloro che dio rigenera nel mondo vengono purificati da peccati questo agnello che toglie il peccato del mondo ovvero di quelli che dal mondo dio salva rigenera giovanni 3 16 dio che ha tanto amato il mondo e ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede lui non perisca ma abbia vita eterna chi è che beneficia del sacrificio di cristo i credenti i credenti sono quelli che beneficiano del sacrificio di cristo non i non credenti infatti in questo stesso contesto versetto 36 chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita ma l'ira di dio rimane su di lui vedete il sacrificio propiziatorio placa l'ira di dio non può essere quindi un sacrificio valido per i non credenti perché l'ira di dio è ancora su di loro è un sacrificio specifico per i credenti giovanni 10 giovanni 10 versetto 11 gesù descrive se stesso come il buon pastore che dà la sua vita per le pecore lui dà la sua vita il suo sacrificio è per le pecore e chi sono queste pecore le pecore che il padre gli ha dato versetto 28 versetto 29 di questo capitolo sono le sue pecore anche caiafa sua insaputa profetizzò che il sacrificio di cristo è per i credenti coloro che crederanno giovanni 11 51 o egli non disse questo di su ma siccome era sommo sacerdote di cui in quell'anno profetizzò che gesù doveva morire per la nazione israele e non soltanto per la nazione ma anche per riunire in uno i figli di dio dispersi ovvero quelli che ancora non erano credenti che ma che avrebbe riunito anche caiafa a sua insaputa profetizzò che il sacrificio di cristo era per questi figli di dio dispersi per i credenti per coloro che avrebbero creduto abbiamo visto quindi il mangelo di giovanni anche nelle piste di giovanni il termine mondo non significa ogni individuo che si situa sulla faccia della terra e quindi non credenti ma i credenti coloro che credono in cristo beneficiano di quel sacrificio chi non crede invece sotto l'ira di dio ma vorrei anche mostrarvi attraverso altri brani del nuovo testamento qual è l'intento del sacrificio propizzatore qual è lo scopo di questo sacrificio in atti 20 alcuni versetti atti 20 28 quando paolo parla gli anziani di efeso disse questo badate a voi stessi a tutto il greggio in mezzo al quale lo spirito santo vi accosti tutti i vescovi per pace la chiesa di dio che egli ha acquistato con il proprio sangue gesù cristo con il suo sacrificio ha acquistato la chiesa gesù con il suo sangue ha acquistato la chiesa e fesini e fesini capitolo 5 25 anche qui paolo che parla dell'amore che cristo ha per la chiesa e poi dice cristo amato la chiesa ha dato se stesso per lei gesù cristo quando è morto sulla croce sul sacrificio propizietoro è per la chiesa ha amato la chiesa ha dato se stesso la sua vita per santificarla tito 2 14 tito 2 14 tito 2 14 apostolo paolo versetto 11 dice che la grazia di dio salvifica per tutti gli uomini qui parla di cristo questa grazia salvifica di per tutti gli uomini si è manifestata cosa vuol dire tutti gli uomini per anche non credenti versetto 14 egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga il sangue di cristo uno scopo è riscattare uomini e donne dalla loro iniquità e purificarsi un popolo e consacrare un popolo avete visto acquistare salvare santificare purificarsi un popolo che gli appartenga zelante questo è l'intento del sacrificio di cristo poi c'è un altro brano quarto aspetto quindi acquistato la chiesa seconda cosa salvezza santificazione l'amore di cristo per la chiesa terzo aspetto ha riscattato e ha purificato un popolo si è purificato un popolo quarto aspetto coloro che per cui cristo è morto coloro per cui cristo è morto vengono descritti nella scrittura come coloro che sono morti in cristo e viventi in lui il sacrificio di cristo non può essere per i non credenti perché il sacrificio di cristo conduce i credenti a essere morti in lui e a viventi in lui seconda corinzi seconda corinzi brevemente anche qui seconda corinzi 5 14 sentite la terminologia che può confonderci perché dice infatti l'amore di cristo ci costringe perché siamo giunti a questa conclusione che uno solo morì per tutti quindi tutti morirono gesù muore per tutti per ogni individuo esistito sulla faccia della terra per tutti quelli che vivranno per l'eternità nello stagno di fuoco no qua dice morì per tutti quindi tutti morirono e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi ma per colui che è morto e risuscitato per loro il sacrificio di cristo e per i credenti i quali sono morti in cristo e vivono in cristo sono consacrati a lui il risultato del suo sacrificio è condurre coloro che erano morti nei peccati a condurli essere morti in cristo e viventi in cristo in questi tutti si rivisce a coloro che credono in cristo i credenti gli eletti che sono morti in cristo e viventi in cristo che camminano con cristo che sono consacrate a lui infatti dice finché vivono non più per se stessi ma per colui che è morto e risuscitato per loro romani 6 romani capitolo 6 la stessa cosa quando parla della morte di cristo siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte affinché come morto come cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del padre così anche noi camminassimo in omità di vita perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua lo saremo anche in una risoluzione simile alla sua non possiamo leggere in questo capitolo ma mostra che la morte e risoluzione di cristo è quella potenza che ci porta a vivere per cristo alla santificazione quindi non può essere un sacrificio valido per i non credenti e poi un altro aspetto ancora quinto aspetto importante ed è questo il sacrificio di cristo il sacrificio propiziatorio è connesso con la certezza della salvezza che credenti hanno certezza che non credenti non hanno perché non hanno salvezza i romani 8 i romani capitolo 8 vediamo che il sacrificio propiziatorio viene associato legato alla certezza che il credente ha della sua salvezza romani 8 32 colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per noi tutti questi tutti chi sono continuiamo non ci donerà forse anche tutte le cose con lui chi accuserà gli eletti di dio di colui che giustifica chi li condannerà cristo gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato e alla destra di dio e che è anche intercede per noi il sacrificio di cristo e per i credenti che hanno questo intercessore e hanno certezza di vita eterna infatti poi dice chi ci separerà dall'amore di cristo vedete in questo contesto il sacrificio di cristo per tutti capiamo chi sono questi tutti gli eletti coloro che non possono più essere condannati perché cristo è morto per loro è risuscitato e intercede per loro ritornando in prima giovanni 2 giovanni qui non sta affermando che gesù è il sacrificio propiziatorio anche per i peccati di quelli che spenderanno l'eternità nello stagno di fuoco il sacrificio di cristo è un sacrificio efficace che produce un risultato e che ci permette come vediamo in questo contesto di mantenere una comunione con dio nonostante pecchiamo gesù non è il sacrificio propiziatorio per i peccati dei falsi insegnanti che sta contrastando infatti non sono in comunione con dio i falsi insegnanti perché perché non hanno un intercessore perché non c'è un avvocato e perché perché il sacrificio propiziatorio non è valido per loro ma per chi per i credenti per i credenti i quali hanno comunione con dio proprio grazie a motivo di gesù il giusto il nostro intercessore sulla base del suo sacrificio propiziatorio e che cosa vuol dire giovanni quando dice non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo prima cosa il sacrificio di cristo non è limitato agli apostoli o a coloro che hanno ricevuto il messaggio da giovanni non è limitato agli apostoli o a coloro che hanno ricevuto il messaggio di giovanni ma è disponibile per qualsiasi tribù nazione popolo il vangelo è proclamato infatti ad ogni popolo a tutti i popoli e sacrificio di cristo non è limitato ai credenti di quell'epoca agli apostoli ma è per qualsiasi nazione tribù popolo secondo aspetto non c'è altra soluzione per il mondo per quanto concede ne perdono i peccati c'è una sola soluzione per tutti che è gesù cristo questo vuole dirci non soltanto per i nostri ma per quelli di tutto il mondo ovvero non c'è un'altra soluzione ma solo gesù cristo è l'unica soluzione affinché ogni individuo possa avere comunione con dio e possa mantenerla ogni individuo è salvato solamente per la grazia di dio grazie al sacrificio propiziatorio i falsi insegnanti negavano cristo e non avevano salvezza non c'era comunione un sacrificio che non era valido per loro ma che è valido per ogni tribù indistintamente e non c'è altra soluzione i falsi insegnanti pensavano di conoscere dio attraverso una conoscenza spirituale personale soggettiva no è il sacrificio di cristo che ci permette di avere comunione con dio e l'efficacia c'è il terzo aspetto di questo sacrificio l'efficacia è permanente è un solo sacrificio ma che ha un efficace un valore permanente continuamente valido affinché i credenti anche se peccano continuano ad avere comunione con dio questo sacrificio che è un sacrificio disponibile per chiunque sufficiente per i peccati di tutto il mondo ma è efficace solo per i credenti ribadisco è un sacrificio disponibile per chiunque sufficiente per tutti l'unica soluzione per la salvezza ma è efficace a valore effettivo solo per i credenti perché loro sono coloro che sono in comunione con dio che camminano nella luce che sono perdonati in cristo redenti in lui fisini 1 7 questa redenzione che è possibile per grazia in cristo non è la fede che dà valore al sacrificio propiziatorio non è la fede che dà potenza a questo sacrificio no è il sangue di cristo che ha potenza nel redimerci e nel mantenere questa comunione con dio questo sacrificio perfetto che è un valore infinito sufficiente a salvare chiunque ma che efficace unicamente per i credenti per coloro che credo infatti vedremo capitolo 3 dove giovanni distinguerà i credenti dai non credenti e parlando dei credenti poi dice versetto 16 da questo abbiamo conosciuto l'amore egli ha dato la sua vita per noi anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli questo sacrificio propiziatore per chi crede per gli eletti per i credenti sono gli unici che beneficiano di questo sacrificio sacrificio per le sue pecore giovanni 10 11 per acquistare la sua chiesa per santificarla atti 20 28 fesini 5 25 e così tanti altri versetti in prima pietro 1 18 prima pietro 1 18 sapendo che non con cose corruttibili con argento con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi da vostri padri ma con il prezioso sangue di cristo come quello di un agnello senza difetto né macchia il sangue di cristo quello che ci ha riscattati non ha riscattato i non credenti i non credenti sono ancora nelle tenebre nei peccati e sotto il dire di dio e ci sono altri versetti che potremmo leggere prima corinzi 6 20 dove parla di essere stati acquistati a caro prezzo il sangue di cristo questi due versetti attraverso altri brani abbiamo visto giovanni qui specificamente esorta i credenti a non peccare a non adagiarsi perché sono perdonati devono confessare i peccati sono perdonati purificati mediante il sangue di cristo versetto 7 del capitolo 1 ma non devono peccare desiderare di peccare il credente non tollere il peccato perché dio è luce lui non ci sono tenebre il credente confesse i peccati odia il peccato non desidera peccare ma ma se pecchiamo e sappiamo che peccheremo c'è una soluzione e questa soluzione è gesù cristo lui è il nostro avvocato ecco perché nonostante pecchiamo abbiamo questa continua comunione ininterrotta con dio perché gesù è il nostro intercessore gesù è il nostro intercessore il nostro avvocato abbiamo capito su che cosa sulla base di che cosa del suo sacrificio propiziatorio gesù è il nostro avvocato non è l'avvocato dei non credenti è il nostro avvocato e intercede perché perché morto per i nostri peccati questo è il mezzo perché i credenti continuino ad avere comunione con dio e questo è quello che tutto il mondo ha bisogno il mondo ha bisogno di questo sacrificio propiziatorio senza distinzione di razza e di popolo il vangelo va proclamato ad ogni popolo e questo sacrificio è l'unica soluzione per ogni popolo per ogni individuo ma è valido efficace solo per i credenti per coloro che infatti continuano ad avere comunione con dio perché purificati da ogni iniquità grazie al sangue di cristo nonostante continuano a peccare questa è l'unica soluzione per il mondo intero sacrificio di cristo sufficiente per tutti senza distinzione ma è efficace effettivo solo per i credenti che come risultato hanno il perdono dei peccati attraverso questo sacrificio siamo stati acquistati siamo stati amati da cristo santificati siamo stati purificati ora siamo un popolo che appartiene a cristo e questo sacrificio la sua morte e risurrezione la potenza per la nostra santificazione noi oggi siamo morti in cristo e viventi cristo mentre i non credenti no e poi questo sacrificio ci permette di avere certezza di vita eterna niente nessuno potrà separarci dall'amore di dio per quale motivo perché gesù è il nostro sacrificio propiziatorio lui è colui che è morto per i nostri peccati per coloro che credono e questo quello che leggiamo romani 8 e vorrei concludere con questo romani 8 32 sacrificio propiziatorio mediante il quale siamo stati acquistati santificati purificati per essere il suo popolo cresciamo e camminiamo in lui perché lui è morto e risorto e così noi siamo morti e risorti e siamo risorti in lui ma abbiamo certezza di vita eterna proprio grazie al suo sacrificio 8 32 colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per noi tutti non ci donerà forse anche tutte le cose con lui chi accuserà gli eletti di dio dio è colui che li giustifica chi li condannerà cristo gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato e alla destra di dio e anche intercede per noi chi ci separerà dall'amore di cristo sarà forte la tribolazione l'angoscia la persecuzione la fame la nudità il pericolo la spada come scritto per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno siamo stati considerati come pecore da macello ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati infatti sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né cose presenti né cose future né potenze né altezza né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di dio che in cristo gesù nostro signore e tutto questo grazie al sacrificio propiziatorio di gesù colui che il nostro avvocato che intercede per noi ed ecco perché per grazie noi nonostante pecchiamo abbiamo questa continua comunione ininterrotta con il nostro padre